Luciano Gennero, faccio parte del programma Talenti, mi è servito tantissimo l'attività che abbiamo svolto in classe e la porterò e la applicherò sia in azienda che fuori. Mi è servito molto a livello di comunicazione e un approccio nuovo di vedere le cose. Stefano Tolomeo, di questo corso mi è piaciuto molto l'interattività del corso con i professori, quindi doversi mettere in gioco e provare sulla propria pelle ad applicare cosa ci è stato insegnato. Buona parte di quello che mi è stato insegnato lo sto già applicando in alcuni ambiti, soprattutto nei rapporti con i miei collaboratori, con aspetti positivi e negativi, perché a volte l'applicazione non è stata ottimale o comunque la tecnica adottata non era quella ottimale, ma sono molto ottimista. Sono Giulio Amore, ho partecipato al Talent Development Programme del 2015, sono stato molto contento di parteciparvi, ho incontrato decisamente delle persone molto professionali e interessanti che mi hanno permesso di acquisire degli strumenti in tanti ambiti di miglioramenti che mi piacerebbe utilizzare nel mio prossimo futuro. Sono Marco Faggiano e da questo corso mi porto a casa un modo differente di affrontare le situazioni sia lavorative che personali, una modalità nuova per uscire dagli schemi soliti che quotidianamente un po' ci imponiamo e un po' ci vengono imposti. Massimiliano Racca, questo corso mi ha permesso di mettere in evidenza una serie di mie carenze e sicuramente mi ha dato parecchi strumenti con i quali lavorare per migliorare me stesso, sia nell'ambito lavorativo che ovviamente anche nell'ambito personale. Claudio Morello, questa esperienza mi ha aperto nuovi punti di vista, sicuramente mi ha reso più consapevole e mi apre nuove possibilità e cercherò di applicare tutto quello che mi ha sottoinsegnato nel mondo del lavoro per poterne raccogliere i frutti. Marco Lesti mi porta a casa l'importanza di saper comunicare bene e di saper essere un buon punto di riferimento, più ottimi strumenti per lavorare meglio.